Oggi un convegno molto importante per quanto riguarda il cammino del perdono. Sì, è un convegno che si riallaccia, si riannoda a un cammino che il centro celestiniano, la città dell'Aquila con gli eventi legati alla perdonanza e alla figura di San Pietro Celestino sta facendo già da tempo, che speriamo produca frutti sempre più abbondanti e più significativi per fare della nostra città un luogo di incontro, di spiritualità, di esperienze forti e di cammini di fede insieme a tutte le altre città e luoghi contrassegnati dalla figura, dalla spiritualità e dall'esperienza spirituale e mistica di San Pietro Celestino. Un convegno ma soprattutto un punto di arrivo e di partenza, arrivo dopo un lungo periodo di studi, di ricerchi durate circa 30 anni sulla figura e sul fenomeno di Celestino che ci ha coinvolti con entusiasmo. È stato molto dura riscoprire un percorso molto forte e con emozioni molto forti questo territorio del meridione ma soprattutto un momento di partenza. Da qui noi adesso possiamo partire e offrire a chi vuole portare il suo contributo in questa rete di amicizie antiche, profonde, un turismo nuovo dalle emozioni importanti che noi possiamo fare e svolgere con il Cammino del Perdono. Sono i quattro cammini collegati fra di loro, Assisi, Roma, L'Aquila e Monte Sant'Angelo insieme concorrono a formare una rete di amicizie, di percorsi, di luoghi veramente incontaminati una natura stupenda, una gente favolosa, accogliente, posti veramente incantevoli che sfruttano questi ex conventi, questi eremi, queste abbazie che hanno tanta storia e tanta religiosità ma tanto spirito umano da offrire, da dare ancora.